Il sindaco che nelle sue interviste, nei suoi comunicati stampa, sta facendo passare il concetto che il gruppo di opposizione è reo di aver fatto una denuncia per ostacolare e addirittura far bloccare i lavori sulla strada emica. Con questo videomessaggio il gruppo di opposizione del comune di Camerota ha risposto alle critiche che ha ricevuto in questi giorni dal sindaco Mario Scarpitta relativamente al caso Mingardina. Chiediamo pubblicamente al signor Mario Scarpitta di esibire la nostra eventuale denuncia o in un pubblico consesso o in un consiglio comunale o attraverso manifesti. Se fare acquisto noi prendiamo l'impegno dinanzi alla cittadinanza di chiedere scusa e di dimetterci il giorno dopo. Ma se così non sarà, perché vi posso garantire e ve lo garantisco a nome di tutto il gruppo, forse le dimissioniere dovranno dare qualcun altro. Perché non sono le denunce che hanno bloccato i lavori, ma sono le procedure e le scelte che ha attuato Mario Scarpitta e la sua amministrazione. Camerota spera che tutto questo finisca al più presto. La Mingardina è una strada di vitale importanza sociale ed economica per questo territorio e non può rimanere chiusa a lungo.